Musica Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite Per la previsione del negozio oggetti di domani 19 maggio 2021 Ma prima di iniziare se non siete ancora iscritti iscrivetevi con la campanellina, mi raccomando lasciate un bel like E vi ricordo inoltre il mio canale Telegram qua sotto fissato in alto nei commenti, mi raccomando unitevi Se non avete Telegram tranquillissimi scaricatelo, è tipo una sorta di Whatsapp ma con dei canali Infatti ho creato il mio canale dove pubblicherò news in anteprima, vi informerò insomma quando ci sarà una live, quando ci sarà l'uscita di un video Quindi unitevi, vi ricordo anche di lasciare un bel commento E detto questo direi che possiamo subito incominciare con la nuova insomma previsione per oggi E direi che possiamo subito incominciare ovviamente dalla zona in evidenza I primi due bundle abbiamo innanzitutto sempre il set dell'NBA, quindi le nuove skin da 1200 V-Bucks che dovrebbero arrivare in contemporanea con le community battle Che non sappiamo attualmente quando possano arrivare, speriamo questo giovedì E poi Rainbow Racer, nuova skin della patch 16.40, 800 V-Bucks il suo costo Andando avanti ragazzi poi abbiamo Oreila, la skin insomma versione oro ma versione ovviamente femminile Quindi 2000 V-Bucks per lei più ovviamente restante bundle E poi abbiamo la skin dello Storm Bomber in inglese ovviamente stiamo parlando di questa skin del Bombarolo Versione nuova di qualche patch fa, 1500 V-Bucks il suo costo con le due versioni sia normale che versione cubo E poi ragazzi per concludere la zona in evidenza abbiamo Catwoman che purtroppo oggi ragazzi non è uscita Infatti era pure un leak ufficiale nel senso che pure Epic Games mi sembra che l'aveva detto che usciva il 18 maggio Ma non è uscita la Catwoman.0 quindi ovviamente dovrebbe uscire comunque nei prossimi giorni se tutto insomma va bene E poi ragazzi abbiamo i supereroi, 1800 V-Bucks per loro più ovviamente tutto il restante set Per quanto riguarda invece ragazzi la zona possibili uscite iniziamo con il set di Razor Quindi 1500 V-Bucks per il maschio, 1200 per la versione femminile Poi Marshmallow, 1500 V-Bucks invece per lui aggiornato potrebbe uscire in qualsiasi momento Poi ragazzi abbiamo la skin della World Cup, lei 800 V-Bucks aggiornata anche lei Quindi potrebbe anche lei uscire in qualsiasi momento, attualmente non sappiamo quando potrebbe uscire E poi abbiamo Strega Surf, 1200 V-Bucks secondo me comunque la faranno uscire per i primi insomma di giugno, fine maggio Poi ragazzi andando avanti abbiamo la Bandoliera, 1200 V-Bucks insieme a Baser, 800 V-Bucks invece per lei Poi abbiamo la skin di Travis Scott con l'agente del caos, 1500 V-Bucks per entrambe le skin Per quanto riguarda Travis non abbiamo ancora notizie, 0 proprio 0, non sappiamo se uscirà in questo periodo o meno Quindi insomma nessuno sa quando potrebbe uscire Poi ragazzi abbiamo la skin di Shadow Ops, 1500 V-Bucks che anche lei si è persa tra le uscite perché non sta più uscendo E poi la skin Accordo Potente, 2000 V-Bucks per lei E per concludere la zona poi possibili uscite abbiamo questa sezione insomma dedicate alle skin di Basket Infatti come ben sappiamo c'è una collaborazione con l'NBA quindi potrebbero tornare le skin della Jordan Quelle che sono uscite durante la stagione numero 9 insieme alle skin anche di Basket normali, 1200 V-Bucks il loro costo Per iniziare la zona giornaliera poi abbiamo la skin Safari che ritolna ogni 30 giorni, 1200 V-Bucks insieme alla skin Paki Poi abbiamo la skin Chromium in inglese che è la skin di questa diciamo di questo soldato versione metallo 1200 V-Bucks insieme alla nuovissima skin Doug 1200 V-Bucks anche per lui E per finire Scully insieme al Pesce Secco 1200 V-Bucks in teoria dovrebbero uscire tutte quante le versioni del Pesce Secco tra pochissimi giorni Per quanto riguarda i picconi abbiamo sempre Bacchetta Stella, Ascio Borchiata e il piccone con la palla con l'occhio Che tra l'altro in realtà dovrebbe anche arrivare il suo set Per quanto riguarda i balletti invece metto sempre questi qua e detto questo ragazzi per il video di oggi è tutto Purtroppo non ci sono video news in questo periodo quindi molto probabilmente ci saranno solo video previsioni Dato che le news stanno scarseggiando non c'è più niente di sostanzioso dovremmo sicuramente aspettare ancora qualche giorno Magari direttamente la patch prossima che ricordo è l'ultimissima patch per questa stagione qui E detto questo noi ci salutiamo non ci vediamo stasera su Twitch però ci vediamo domani sempre con un nuovissimo video Bella Ciao Ciao Ciao